A dieci giorni dalla chiusura della campagna elettorale si fanno sempre più frenetiche le attività di partiti, liste e candidati. Giovedì sono previste due visite eccellenti in casa PDL. Alle dieci il segretario nazionale Angelino Alfano incontrerà i dirigenti piacentini, gli amministratori locali e coordinatori della sezione dei vari comuni della nostra provincia. Nel pomeriggio invece Carlo Giovanardi sarà nel Piacentino per una serie di visite organizzate dal candidato Jonathan Papamarenghi. Prima visita a Fiorenzuola, poi tappa a Lugagnano. Domani alle 21 a ridotto del Teatro Verdi di Fiorenzuola sarà ospite il deputato della Lega Nord Massimiliano Fedriga che illustrerà il bilancio d'attività del carroccio al governo. Proseguono anche i banchetti del Movimento 5 Stelle, domani dalle 15 alle 19 al centro commerciale Galassia e giovedì dalle 9 alle 17 al centro commerciale Gotico. Sempre domani Tommaso Foti di Fratelli d'Italia incontrerà elettori e simpatizzanti sul mercato di Carpaneto dove sarà allestito un gazebo del partito di centrodestra. Alle 19 nei locali del bar della stazione di Castel San Giovanni aperitivo di Fratelli d'Italia e alle 21 incontro pubblico al centro culturale di Via Mazzini.